A Castellabate è il primo guarito, ma ci sono altri quattro contagi in città. Devo comunicare, fa sapere il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, che tre persone già da giorni in quarantena, perché facenti parte della catena dei contatti di uno dei primi positivi, sono risultate a loro volta affette da Covid-19. Inoltre l'ASL mi ha informato della positività di un'altra persona residente che però non dimora stabilmente a Castellabate già in isolamento fiduciario. Ad oggi i casi a Castellabate sono 14 guariti, 1. Tutti i positivi sono in buona condizione di salute. Un ulteriore aggiornamento è stato fatto sempre dal sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, riguardo l'esito di tutti i tamponi dei contatti di uno dei primi casi di positività che hanno dato esito negativo. Vi confesso, sottolinea ancora la Maiuri, che questa era la situazione che ci destava maggiore preoccupazione perché coinvolgeva tanti giovani nel nostro territorio. Insieme supereremo tutto.